Working Class Hero, in studio Luciano Calì, anzitutto spieghiamo la denominazione e quindi gli scopi di questa associazione. Sì dunque, Working Class Hero diciamo che fa un po', si richiama abbastanza direttamente a quello che è la famosa canzone di John Lennon, i versi un po' che diversi decenni fa ormai declamò pubblicamente. L'associazione è un'associazione di volontariato che si occupa principalmente di divulgare quello che è il sapere dell'informazione libera, della scienza in genere e lo fa attraverso quelle che sono comunque occasioni pubbliche come convegni e dibattiti pubblici o come anche corsi comunque veri e propri aperti a tutti quanti cittadini. Opera principalmente nel territorio grossetano e diciamo da un certo punto di vista comunque ha un rapporto privilegiato con quello che sono gli istituti didattici del territorio provinciale perché tramite comunque delle convenzioni stipulate con gli enti pubblici e con le scuole si vede di portare a conoscenza soprattutto dei giovani e anche dei meno giovani comunque quelle che sono le scoperte scientifiche e soprattutto anche quelle che possono essere le opportunità di crescita per un territorio che ha in noi come quello Maremmano comunque un po' arretrato dal punto di vista tecnologico. E quando parliamo di scoperte scientifiche a quali campi ci riferiamo soprattutto? Potremmo dire che da questo punto di vista che ci piace un po' spaziare in tutto quello e può essere l'arco dello scibile umano. Si va dall'informatica al software libero alla conoscenza comunque di Linux che è un sistema madre per gestire quello che è il software libero in genere, il sistema operativo per e proprio quello che fa concorrenza naturalmente non diretta ma comunque in termini non commerciali a Windows o comunque altri sistemi concorrenti e poi comunque quelli che sono tutti quanti i pacchetti di software che girano sopra questo sistema operativo libero libero diciamo dal costo delle licenze ma anche libero dal punto di vista della fruibilità degli utenti anche per la modifica dello stesso sorgente. Quindi chiunque per quanto riguarda Linux dotato naturalmente di alcune conoscenze di base può tranquillamente modificarlo e farne una versione totalmente ad uso e consumo proprio. Naturalmente diciamo che si cerca da questo punto di vista di fare in modo che quanto più possibile gli utenti collaborino fra di loro. Questo per quanto riguarda Linux e il software libero. Poi ci sono anche comunque un altro genere di formazione che come per esempio approfittando del 2009 come anno diciamo fecondo dal punto di vista scientifico ci consente di spaziare dall'invenzione diciamo della rete internet sotto forma di strumento di ad uso militare come era Arpanet tanti anni fa addirittura anche con comunque risvolti che possono riguardare oggi e non lo si sarebbe detto neanche dieci anni fa quello che la società e il quotidiano riversate in un mondo virtuale che è uno strumento per tutti come viene utilizzato oggi da molti giorni Facebook consente addirittura di creare una sorta di nazionalità virtuale. Questo dunque nelle vostre attività nei corsi aiutate a familiarizzare con questi strumenti non solo i giovani ma anche persone poi della metà per esempio che non le hanno molto familiari. Possiamo dire che da questo punto di vista amiamo dire che riusciamo un po' a convincere e a formare i giovani di tutte le età quindi da questo punto di vista quando una persona ha comunque la curiosità di mostrare l'interesse di conoscere dei nuovi strumenti è indubbio che da questo punto di vista mentalmente è sempre una persona giovane qualsiasi età anagrafica si possa comunque porre nella condizione di imparare Bene, grazie. E questo è l'ultimo aspetto è la possibilità di mettersi in contatto con voi come si deve fare? Sì, è abbastanza facile. Dopotutto comunque si opera molto attraverso gli strumenti informatici il sito internet workingclassero.eu sarebbe il dominio europeo che ormai da diverso tempo viene utilizzato abbastanza facilmente. Sul sito internet è possibile comunque ritrovare tutti quanti i dati e anche tutti quelli che sono i corsi di formazione che vengono comunque fatti nell'arco temporale dell'anno solare. Benissimo, dunque compreso il numero di telefono. Esattamente. Bene.